Ha lasciato l'aula nel pieno svolgimento dell'udienza Luciano D'Alfonso. Questa mattina al Tribunale di Pescara si è svolto il secondo capitolo in merito al risarcimento di 200.000 euro chiesto dal Presidente della Regione al Consigliere 5 Stelle Domenico Pettinari per diffamazione e lesione dell'immagine in merito al caso della palazzina acquistata dalla Regione in via Rigopiano. Un'ora di dibattimento davanti al giudice che ha visto accolte solo parte delle richieste dell'accusa. In ogni caso sono state ammesse le prove per le quali avevamo più attenzione che sono quelle di ricostruire e di dimostrare la reputazione personale del dottor D'Alfonso e quindi quanto questa possa incidere in un procedimento per diffamazione. Un altro punto importante è stato quello che il virgolettato riportato dai giornali faceva fede a un documento prodotto su questo invece si è dibattuto soprattutto per dimostrare qual era la diffamazione. Sì perché noi riteniamo che non sia stato ritrascritto l'interrogazione del Consigliere Pettinari ma ci siano state delle dichiarazioni e poi il giornale abbia virgolettato il contenuto dell'interrogazione. Dall'altra parte l'avvocato della difesa ha più volte battuto sull'assenza di prove in merito alla dimostrazione del danno subito dal governatore d'Abruzzo e sul fatto che le dichiarazioni riportate dai media fossero solo un estratto di un documento politico l'interpellanza presentata in Consiglio regionale prodotta in seguito al giudice come prova. Comunque noi siamo tranquilli, ribadiamo comunque che D'Alfonso non ha mai provato nel corso del processo il danno effettivamente subito e quindi adesso si fa riferimento a questa prova testimoniale ne vedremo l'esito. Un altro punto era quello di chiarire se fosse una persona fisica a risponderne oppure una persona con il suo grado di presidente della regione. Nel caso in cui il giudice decidesse che sussiste la legittimazione attiva quindi il procedimento è andato così insomma nel senso che D'Alfonso era legittimato a stare in giudizio se dovesse ritenere insussistente la legittimazione attiva il processo cadrebbe. Ammessi tutti gli otto testimoni dell'accusa che saranno ascoltati in due distinte tranche la prima il prossimo 8 novembre e la successiva il 6 dicembre.